Ho quattro figlie che non smettono mai di crescere. Di solito passavo i vestiti dalla più grande alla più piccola, finché non è arrivata Sofia. Mi sa che i vestiti delle sue sorelle non fanno per lei. Ma non c'è problema, perché su Vinted trovo tantissimi capi perfetti per lei e anche per il mio portafoglio. Vinted, scarica l'app. Lo cerchi, lo trovi su Vinted. Grazie.